bentornati al nostro consueto appuntamento con la rubrica di arte eventi news bene l'approfondimento come potete capire siamo all'aperto e siamo allo zoo di pistoia un viaggio che veramente è sempre affascinante e sempre pieno di novità per conoscere qualche cosa e qualche curiosità dello zoo abbiamo incontrato il suo direttore sentiamo cosa ci ha detto siamo con paolo cavicchio direttore dello zoo di pistoia direttore dopo la pandemia anche lo zoo riparte e apre i suoi cancelli al pubblico ecco in questo periodo cosa ha fatto lo zoo per prepararsi alla riapertura innanzitutto ha cercato di superare tutte le difficoltà conseguenti alla pandemia nel miglior modo possibile perché è stato ovviamente un periodo straordinario per tutti in modo particolare per il giardino zoologico che vive esclusivamente con i visitatori che vengono ovviamente pagano il biglietto questi sei mesi di chiusura soprattutto gli ultimi sei mesi di chiusura sono stati un periodo di forte difficoltà quindi prima cosa concentrarsi per cercare di resistere al meglio salute di tutto il personale la salute degli animali sono stati il nostro principale obiettivo poi mano a mano che ci avvicinavamo per fortuna alla primavera e quindi abbiamo capito che prima o poi avremmo riaperto ci siamo concentrati su ridare come dire vigore a tutto il parco all'accoglienza e a creare anche un piccolo angolo nuovo nel giardino zoologico proprio è piccolo perché è dedicato ad animali piccoli questi animali piccoli lo posso svelare in realtà sono gli insetti un mondo che normalmente come dire si trascura durante la visita a un giardino zoologico dove si viene per vedere i mitici leoni o le giraffe in realtà gli insetti sono il gruppo animale in questo momento più abbondante sulla terra noi viviamo nell'epoca degli insetti e a parte le zanzare e qualche altro fastidioso esemplare che conosciamo purtroppo anche per trasmettere le malattie gli insetti sono una parte fondamentale della nostra vita sussistenza sulla terra cioè mi sto riferendo per esempio alle api e a tutti gli insetti pollinatori in pollinato che purtroppo stanno incontrando un grosso periodo di difficoltà negli ultimi decenni collegati a mutamenti climatici a mutamenti dell'ambiente dovuti anche all'uomo uso di anticritto grafico insomma le sostanze chimiche immesse nell'ambiente quindi stiamo creando un piccolo angolo in cui parleremo di questo del fatto che non possiamo vivere sulla terra senza impollinatori perché per esempio molti dei vegetali che arricchiscono la nostra tavola dipendono dalla loro azione direttore tutti noi abbiamo sofferto per il lockdown ma secondo lei gli animali hanno sofferto di questa mancanza di rapporto con il pubblico ma dunque ci sono molti aneddoti su questo fatto quindi anche durante il primo lockdown quello dell'anno scorso di marzo frio dell'anno scorso è nato subito come dire una serie di casistica ma molto aneddotica gli animali nella stragrande maggioranza per quanto riguarda la nostra esperienza non se ne sono accorti perché comunque hanno tutti i giorni a che fare con il personale con i guardiani con i treni con i veterinari forse le caprette quelle che sono più abituati a vedere tanti bambini quando passevamo vicino al recinto si accorgiavamo che ci chiamavano nel senso che erano abituati a questo contatto ma è naturale così insomma sono animali domestici abituati a vedere tante persone quindi in queste giornate spesso molto belle anche dal punto di vista climatiche ma solitarie sono state forse quelle che hanno hanno dato un pochino più il segnale di cercare il contatto umano se lei dovessi dire un motivo per venire a visitare lo zoo ovviamente il contesto in cui si trova sulla collina a mezzo al verde tanti animali ma in questo momento quali sono gli animali che permettono di dare un senso a un viaggio qui e che difficilmente si potrebbero incontrare ma io penso che questo periodo molto particolare ci ha insegnato appunto due cose la prima che la passeggiata all'aria aperta nel parco ha un valore insostituibile che non possiamo sostituire con una rappresentazione virtuale su zoom oppure appunto sui mezzi elettronici respirare l'aria ascoltare i rumori i suoni degli animali l'atmosfera è un piacere che i nostri visitatori ci raccontano insomma cercavano cercavano e mancava dalla loro esperienza anche per esempio nelle visite notturne che riprenderanno fra poco in estate la notte si vive il parco con suoni rumori profumi e sensazioni completamente nuove e differenti rispetto al giorno quindi è una cosa che va vissuto è quell'esperienza quella vita esperienziale che possiamo dare soltanto appunto a cancelli aperti poi durante la passeggiata in un giardino zoologico ci sono due aspetti quello appunto della flora e quello della fauna una fauna molto ricca differenziata qui dipende un po dalle passioni di ognuno di noi c'è chi è appassionato più di uccelli di mammiferi secondo noi ci sono delle specie che comunque richiedono magari un po di pazienza come quella che abbiamo per esempio qui vicino a noi in questo momento c'è il panda rosso che sono un punto di riferimento si deve dire pazientare cercarli soprattutto in estate quando le foglie degli alberi camuffano questi esemplari ci vuole un po di pazienza osservandoli cercandoli si comprendono tante cose ecco di come un animale in questo caso un carnivoro che si nutre in realtà prevalentemente di vegetali ha sfruttato questa nicchia molto particolare che sono le foreste con il bambù cercando di proteggersi da leopardi e quindi vivendo sugli alberi sugli rami molto piccoli ma non è riuscito e questa è la storia che raccontiamo a proteggersi dall'uomo che appunto ne sta seriamente minacciando la sopravvivenza sulla terra quindi dietro poi c'è tutto un lavoro che anche il giardino zoologico sta facendo per cercare di salvare gli ultimi esemplari ecco questa è una delle storie emblematiche che non possono mancare durante la visita al parco grazie a tutti grazie a tutti